Ialuril Soft Gels Ialuronico e Chondroitin Solfato sono presenti nell'urotelio, dove costituiscono una barriera protettiva della mucosa che riveste la vescica e le altre vie urinarie. Quando esso risulta danneggiato, batteri e agenti irritanti possono penetrare nella mucosa e nei tessuti, scatenando processi infiammatori e sintomi come dolore, urgenza e frequenza minzionale. La somministrazione di Ialuril Soft Gels per le proprietà dei suoi componenti è indicate in diverse patologie vescicali e situazioni di danneggiamento uroteliale. Tra queste, Ialuril Soft Gels può essere utile nel trattamento combinato delle cistiti ricorrenti su base infettiva, in particolare nelle donne. Nella gran parte dei casi in cui, a seguito di un primo episodio di cistite batterica, si verificano episodi ricorrenti di cistite, è verosimile un progressivo danneggiamento del rivestimento protettivo interno della mucosa vescicale. Tale danneggiamento sostiene una reazione infiammatoria, che a sua volta facilita l'ulteriore penetrazione di germi, che reiterano le infezioni e la sintomatologia irritativa. Nel caso dei cistiti ricorrenti su base infettiva, la somministrazione di Ialuril Soft Gels per un periodo sufficientemente prolungato può essere utile nel ripristinare il coating uroteliale, concorrendo alla riduzione dello stato infiammatorio e dei relativi sintomi. Grazie Grazie Grazie